Benvenuto a Sergio Romano Non potevamo a cent'anni dall'inizio della prima guerra mondiale evitare il tema dell'intreccio spesso velenoso tra guerre, inganni e informazione ma soprattutto non potevamo avere il nostro più grande amico del nostro festival quindi ridiamogli il benvenuto e lo sentiamo Grazie per avervi invitato ancora una volta Quando conquistò il potere dopo la rivoluzione bolshevica dell'ottobre 1917 il partito comunista trovò nelle cassaforti del governo zarista tutti i trattati segreti con cui la Francia, la Gran Bretagna, l'Italia, la Russia si erano accordati prima dello scoppio della grande guerra per spaschirsi i frutti della vittoria Naturalmente per il partito comunista questa fu una straordinaria vendemmia Quei trattati segreti furono rivelati al mondo, stampati sui giornali di tutto il pianeta e furono l'argomento di cui Lenin si valse per dimostrare che i paesi capitalisti erano ingordi e rapaci Nel caso dell'Italia furono note per l'appunto le condizioni che erano state stipulate a Londra nell'aprile del 1915 le condizioni che consentivano all'Italia di entrare in guerra L'Italia aveva appartenuto alla triplice alleanza quindi era alleata dell'Austria e della Germania ma aveva proclamato la sua neutralità dopo l'inizio della guerra nell'agosto del 1914 e con ragione perché non era stata consultata Comunque le condizioni per l'Italia erano il Trentino il Trentino sarebbe divenuto italiano il Trentino italiano il Tirolo del Sud fino al Brennero vale a dire fino alla frontiera naturale Trieste le contee di Gorizia e di Gradisca e l'Istria sino al Quarnaro più una parte importante della Dalmazia Qualche settimana dopo l'8 gennaio del 1918 il presidente americano Woodrow Wilson pronunciò un discorso al Senato degli Stati Uniti in cui ribadì i 14 punti di un documento che aveva scritto e pubblicato nel 1916 questi 14 punti avrebbero dovuto regolare la convivenza internazionale dopo la fine della guerra nel primo punto Wilson auspicava pubblici trattati stabiliti pubblicamente e dopo i quali non vi siano più intese internazionali particolari di alcun genere ma solo una diplomazia che proceda sempre francamente e in piena pubblicità in altre parole stava dicendo a modo suo e con un accento fortemente democratico quello che stava dicendo Lenin a Pietrogrado vale a dire che non bisognava più fare cose segrete nascondendole alla pubblica opinione lavorando dietro le spalle dei popoli quindi alla fine della grande guerra Lenin e Wilson il dittatore del proletariato e il leader di una grande democrazia occidentale avevano una stessa convinzione che il miglior modo per assicurare al mondo la pace fosse quello di trattare le questioni internazionali alla luce del sole senza infingimenti, riserve mentali, reticenze, ambriguità e protocolli segreti i governi tuttavia naturalmente continuarono a fare esattamente quello che avevano fatto prima e il segreto continuò a essere lo strumento indispensabile di qualsiasi trattativa ma tutti capirono che la pubblicità dopo l'ingresso delle masse nell'arena politica era ormai un idolo a cui bisognava tributare continuamente i dovuti omaggi e così nacquero i ministeri della propaganda gli uffici stampa, i portavoce gli enti e le persone che avrebbero dovuto raccontare al popolo la verità accade con particolare efficacia nei regimi totalitari e autoritari dove i cittadini non erano autorizzati a fare domande nella Russia sovietica furono costituiti i dipartimenti dell'agitazione e della propaganda che a memoria della guerra fredda e del periodo in cui il partito comunista aveva un ruolo importante nella società politica italiana non può avere dimenticato la figura dell'agit prop che era per l'appunto il personaggio di questi uffici per l'agitazione e la propaganda che si erano costituiti nella Russia sovietica in Italia nel 1934 furono istituiti il sottosegretariato per la stampa e la propaganda che Mussolini affidò a Galeazzo Ciano, vale a dire al suo genero e un anno dopo il Ministero della Cultura Popolare in Germania dopo l'avvento di Hitler al potere nel gennaio del 1933 fu creato il Ministero della Propaganda ebbe propaganda in quel momento aveva una connotazione positiva dopo tutto la prima istituzione pubblica in cui fu usato il termine di propaganda era la congregazione di propaganda fidei quindi non era una parola brutta e cattiva era una parola positiva questo unico ministro del Ministero della Propaganda dal 1933 alla morte nel bunker del 1945 fu naturalmente come tutti sanno Goebbels che fu forse il più grande bugiardo del XX secolo ma anche fanaticamente convinto che le sue bugie fossero al servizio della indiscutibile verità nazista fu una colossale bugia per esempio l'evento fondatore del regime nazista e quale fu l'evento fondatore? nella notte del 27 febbraio 1933 un incendio distrusse il Reichstag vale a dire il Parlamento nei pressi della porta di Brandeburgo i pompieri accorsero i pompieri di Berlino constatarono che i focolai erano numerosi in altre parole l'incendio era stato appiccato in parecchie parti di questo enorme palazzo che tuttora esiste e scoprirono un uomo seminudo e piuttosto fanaticante si chiamava Martin Van Lube era un comunista olandese patologicamente assetato di notorietà e chiaramente squilibrato fu arrestato e il regime attribuì subito la responsabilità dell'incendio ai comunisti Lube fu processato fu condannato fu decapitato ma i comunisti furono invece assolti era un momento in cui i tribunali tedeschi erano ancora in grado di emanare sentenze libere indipendenti troppo tardi Hitler nel frattempo aveva fatto arrestare i leader del partito e aveva ottenuto dal presidente Hindenburg un decreto che gli conferiva i pieni poteri e gli permise così di sbarazzarsi di tutte le opposizioni ma all'origine del regime vi fu una bugia quell'incendio era stato molto probabilmente appiccato sì dal farmeticante comunista olandese ma probabilmente era stato manovrato e manipolato da altri i regimi democratici quando crearono i loro ministeri della propaganda furono più discreti o meno volgari ma non meno interessati a diffondere le loro verità l'effetto di questa diplomazia della verità raccontata al popolo fu quello di aumentare esponenzialmente il numero delle bugie e di quelle mezze bugie eleganti che sono la reticenza l'ambiguità l'allusione l'ipocrisia non si è mai tanto mentito nel mondo della politica internazionale come dal giorno in cui Lenin e Wilson sostenerò che occorreva dire ai popoli soltanto la verità la prassi divenne particolarmente frequente e ogni qual volta occorreva giustificare un'aggressione militare ma la responsabilità in questo caso sono più difficilmente accertabili sappiamo che nell'estate del 1935 vi furono molti incidenti sulla frontiera tra l'Etiopia e l'Eritrea di cui parecchi provocati dall'Etiopia ma per Mussolini quegli incidenti furono l'occasione attesa e desiderata e preparata da tempo sappiamo che l'incidente fra le truppe cinesi e le truppe giapponesi sul ponte Marco Polo nel 1937 provocò un conflitto che sarebbe durato sino alla sconfitta del Giappone nel 1945 ma ciascuno dei due contendenti dichiarò di avere reagito a un'iniziativa dell'altro i cinesi in particolare sostenderò che i giapponesi avevano messo in scena un conflitto a fuoco con pallottole a salve fra due pattuglie di cui una cabuffata con uniformi cinesi non abbiamo dubbi invece sulla vicenda che dette inizio all'invasione tedesca della Polonia nel settembre 1939 l'incidente fu architettato da Heinrich il capo dell'ESS e della Gestapo e prevedeva che un drappello di soldati vestiti con uniformi polacche si impadronisse di una piccola stazione radiofonica tedesca collocata al di qua del confine tedesco-polacco vale a dire in un ultimo lembo di territorio germanico prima della frontiera questi soldati vestiti con uniformi polacche dovevano impadronirsi della stazione e lanciare dai suoi microfoni alcuni messaggi contro il terzo Reich per costituire questa pattuglia di assalitori truccati l'ESS e la Gestapo ricossero a qualche campo di criminali c'erano anche i campi per i criminali veri e furono scelti in particolare fra i prigionieri del campo di Dachau sul posto fu persino trovato il corpo di un tedesco della Slesia polacca quella parte della Slesia che era diventata polacca alla fine della guerra noto per i suoi sentimenti antinarzisti in altre parole presero un polacco antitedesco lo ammazzarono e lo facciano trovare lì come prova che erano stati i polacchi che avevano messo in scena questa congiura grazie a tutti